Vedere solo come sta? Guardo, mi dicessi nenti che oggi è stata una giornata che sono vivo per miracolo Pichi, che ti è successo? Nenti! Sul versante del sesso? Nenti! Stava finendo ma cara all'obitorio! Ascutassami sentenza, io ho finito con le femmine, ho chiuso con il sesso! Voleste sapere quando mai ha cominciato? La medicina toglie spontaneo al gioco dell'amore, io ero un uomo apprezzo la coerenza e tu ero una nonna cosa apprezzi? I minni o culo? Velocità, due! Silenzioso! Ma che stanno facendo? Palestra! Siccome non avemmo i sordi per lo squagliaculo elettrico, c'è mia moglie che ci dà una mano matualmente, che vuole la crisi! Io, signor Fofò, quando vedo le donne che fanno palestra, mi viene una sete, a lei che c'è bene? Di vomitare! Ma non sente caldo? Non ha sete? No! Ma oggi ha bevuto? Lo sa che deve bere molto? Pichi, ma hai a fare l'analisi? Ma no! No, lei non lo sa, ma il nostro fisico ha bisogno d'acqua! Ci piglio un bicchiere d'acqua? No, no, io sì! Stop! Mamma! Va bene, va, me ne vado, vado a farmi bella! Te ne vai a Lourdes? No, vado al centro di bellezza dove sono andata ieri! Faccio, vai, stai chiuso! No, vado al centro di bellezza dove sono andata ieri, vado al centro di bellezza dove sono andata ieri, vado al centro di bellezza, 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 vado al centro di bellezza.